Benvenuti ad un nuovo appuntamento con Edicola Belluna, la rassegna stampa di Radio ABM, un saluto anche a chi ci sta guardando attraverso la nostra pagina ufficiale Facebook, attraverso il canale di YouTube dell'Associazione Bellunesi nel Mondo. Dai nostri studi in via Cavorteria Belluno, Marco Crepa si accompagnerà nella lettura di oggi della rivista mensile insieme, una rivista che viene preparata, stampata direttamente dal Brasile ma che è dedicata e derivolta a tutti gli italiani, in questo caso residenti in Brasile e anche i discendenti dei nostri italiani. Passiamo quindi alla prima pagina, la foto di copertina di questa edizione che è un omaggio al grande Egno Morricone, questo è il titolo, il mondo della musica dice addio a Morricone o mondo da musica da Odessa a Morricone, chiedo Venio ovviamente per la mia pronuncia in portoghese ma questa è la foto di copertina con il primo piano del grande compositore Egno Morricone che ci ha lasciato poche settimane fa. Adentriamoci all'interno, si taglia questo il titolo principale, il referendum di conferma che doveva tenersi a marzo, si terrà a settembre, gli italiani all'estero votano anche per corrispondenza se il virus lo permette. Andiamo avanti, elettori temporaneamente all'estero, gli elettori che per motivi di lavoro, studio o cure mediche si trovino temporaneamente all'estero per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricale la data di svolgimento del referendum popolare confermativo della legge costituzionale in materia di riduzione del numero dei parlamentari fissato per il 21 settembre 2020, nonché i familiari con loro conviventi potranno esercitare il diritto di voto per corrispondenza ricevendo il plico elettorale contenente la scheda per il voto all'indirizzo di temporanea dimora all'estero informa la Farnesina in un comunicato stampa del 23 luglio. Ma continuiamo con la lettura della rivista Insieme, ecco l'omaggio a Egno Morricone che ha aperto come foto di copertina l'edizione del numero di agosto, Egno Morricone, Roma 10-11-1928, Roma 6 luglio 2020. Vi piacevano i western spaghetti e nemmeno sapevate dell'autore di quella musica che elevava il clima di suspense ai massimi livelli prima che il protagonista riuscisse a risolvere il problema? Beh, è un omaggio della rivista Insieme ad Egno Morricone. Non voglio disturbare nessuno, questa è l'ultima dichiarazione di Egno Morricone prima che mancasse un'ulteriore dimostrazione e della riservatezza di questo grande artista italiano. Addio maestro, lascerei un grande vuoto, un ulteriore approfondimento a firma di Por Paolo Meneghini. Nella notte tra il 5 e il 6 luglio si è spento a Roma il maestro Egno Morricone che era nato nella capitale, rione Trastevere, il 10 novembre del 1928. Io, il maestro e le nebbie della pianura padana, un altro articolo in questo caso a firma sempre di Por Paolo Meneghini, alla fine degli anni Ottanta ebbe il privilegio di passare una giornata assieme al maestro Morricone. Il compositore romano aveva accettato l'invito di venire gratuitamente a Vicenza per partecipare a una tavola rotonda che per la prima volta in Italia metteva a confronto importanti critici musicali nazionali, due cantautori di successo, Lucio Dalla, Conte e il compositore Salvatore Schierino. Quindi un ulteriore approfondimento, un'ulteriore testimonianza in questo caso di Paolo Meneghini che ha avuto la fortuna di conoscere personalmente il grande maestro. Davvero un approfondimento ricco di pagine per Egno Morricone da leggere interamente in questa edizione della rivista Insieme. Andiamo oltre, siamo a pagina 28, con leoni, ancora leoni. Nel Rio Grande d'Ossul la moda è piantare leoni alati per commemorare l'immigrazione. Ed ecco in questa fotografia, perché ci sta guardando da Facebook o YouTube, il monumento a leoni di San Marco nel comune di Arvorezzinia. Siamo nel Rio Grande d'Ossul. E andiamo avanti per contrassegnare i 150 anni dell'inizio dell'immigrazione italiana nel Rio Grande d'Ossul. Quest'anno un altro progetto che coinvolge la mitica figura del leone alato di San Marco è in corso. Sotto il coordinamento della Converse, il comitato delle associazioni venete del Rio Grande d'Ossul, dopo i leoni nelle piazze, abbiamo ora i 25 luni di San Marco nell'ottava provincia veneta. Il progetto, lanciato ufficialmente il 28 ottobre scorso nella Vale Veneto, distretto del comune di Sao Joao, dopo l'esine, ha visto la sua seconda fase interrotta dall'isolamento imposto a causa della pandemia del coronavirus, dopo aver installato leoni a Montebello d'Ossul, Jaguari, Nova Prata e Arvorezzinia. Ed ecco uno scatto, aspetto del lancio del progetto 25 leoni di San Marco nell'ottava provincia veneta. Vediamo anche Antonio Aldo Rozi Marin, che è il presidente dell'associazione Veneti nel mondo con la bandiera del leone di San Marco. E vediamo alcuni scatti dell'inaugurazione dei leoni, qui c'è anche la presenza del presidente della regione Veneto, Luca Zaia, il leone di Santa Teresa nella zona della Val d'Os Vignedo, si è inaugurato il 15 novembre del 2006, con la presenza, si vede anche dalla fotografia, del presidente della regione Veneto, Luca Zaia. Altri scatti, vediamo anche il nostro Cesare Prezzi, uno degli elementi di questa volontà di installare in tutto il Brasile, nei paesi del sud, la presenza del leone di San Marco. E vediamo tutte le installazioni che si sono succedute, in questo caso, inaugurazione di uno dei monumenti di Montebello d'Ossul nella valle d'Os Vignedos. Ma continuiamo con la lettura della nostra rivista, che è protagonista di questa edizione di Edicola Belluno, stiamo parlando del mensile Insieme, Bisbiglio, passiamo alla sezione Nostalgia, il Centro Culturale e la sua storia, 70 anni, non c'è l'anniversario che non evochi i ricordi del passato ed il Centro Culturale Italo-Brasiliano Dante Alighieri di Curitiba ha un passato ricco di storia. Mio padre Gianfranco Bertoni, uno dei fondatori e per circa 30 anni presidente del Centro Culturale Italo-Brasiliano Dante Alighieri di Curitiba, una testimonianza diretta, in questo caso, di Mario Bertoni. Tante le fotografie che troverete, tante le storie delle persone che si sono succedute in questo Centro Culturale presente a Curitiba. Andiamo avanti con la rivista Insieme, il ritorno, tutto questo fra usato e apprezzato come spettacolo, era usato e apprezzato come spettacolo solamente da un limitato gruppo di persone, adesso no, adesso tutto e tutti siamo online. Mi arrivano in questi giorni dall'Italia, dagli amici artisti italiani, tante belle informazioni che parlano di un ritorno del teatro e della musica dal vivo, tante belle manifestazioni, festival che tornano a popolare le notti estive italiane come anche la nostra rivista C-Monster, un approfondimento a firma di Roberto Innocente. Tutto distrutto, ciclone bomba, batte complesso di trasformazione agroecologica nella culla dell'immigrazione trentina del PR. Vediamo un attimo i 152 associati della Villa Docolono nell'entroterra di Piracuara, Grande Curitiba, si stanno riprendendo dallo spavento e i danni che hanno subito nella mattinata del primo luglio, quando il furore di un ciclone bomba ha distrutto praticamente tutte le unità di produzione ed ecco qui uno scatto che ben rappresenta la devastazione di questo ciclone. Sogno che diventa realtà la prima piattaforma di vetro dell'America Latina in costruzione in un parco nell'entroterra di Canella, Rio Grande d'Ossuli, il progetto che è nato da un vecchio sogno dell'imprenditore catarinense Moassir Bogo, costerà circa 30 milioni di reais ed ha caratteristiche inedite in tutto il mondo ed ecco qui una panoramica della struttura che ben presto sarà realtà. E alcuni momenti della costruzione della piattaforma, i lavori di costruzione del complesso turistico vanno avanti e la previsione per l'entrata in funzione dello Sky Glass Ferradura è per il prossimo novembre, quindi ormai mancano davvero pochi mesi. Un sistema insostenibile, dereito del sangue, l'attuale sistema ha molto facilitato opportunismi politici e clientelismo nel mondo dell'immigrazione per gli individui interessati a recarsi negli Stati Uniti. Un articolo riferito all'argomento che tratta di eventuali limiti all'assegnazione della cittadinanza con il criterio Ius Sanquini, se è antico, trito e ritrito, ma con una potenziale di ritorno continuo nel panorama politico italiano generando sempre infinite polemiche su entrambi i lati dell'Atlantico. Un approfondimento quindi da leggere in questa edizione del mensile insieme. Come sempre presente nella rubrica Origini del cognome, in questa edizione scoprirete le origini di Campagnano, Coser, Finzi, Pedrotti e ancora Panorama a cura di Fabio Porta. Dopo la Seconda Guerra Mondiale l'Italia iniziò con fatica ma con altrettanta determinazione un cammino di ricostruzione morale, sociale ed economica. Quindi una riflessione, in questo caso a firma, di Fabio Porta. Venti anni fa nasceva, grazie alla UILP, il sindacato brasiliano dei pensionati. In questa foto Plinio Sarti, presidente UIM, Brasile e vicepresidente Sindinap. E ancora le nuove tecnologie a servizio dei cittadini anche nell'emergenza Covid. L'emergenza imposta prima all'Italia e dopo al Brasile dal Covid-19 ha comportato anche per il patronato Italwill del Brasile un supplemento di responsabilità nei confronti del nostro lavoro. Siamo a pagina 75, l'italiano che è e c'è in te, un articolo a firma di Frey Roviglio Costa. E ancora andiamo avanti con Galleria del Tempo. C'era un ragazzo, canzoni prettamente italiane del secolo scorso. Quando esisteva il ministro degli italiani nel mondo? 15 anni fa, il 3 giugno 2005, arrivava a Curitiba parte di un programma di visita ufficiale in Brasile. Il ministro Mirko Tremaglia, storico combattente per la valorizzazione degli italiani all'estero. L'allora ministro degli italiani nel mondo, Mirko Tremaglia e sua moglie, e nella foto della pagina precedente, il ministro dell'ambasciatore d'Italia in Brasile all'epoca, Michele Valensise e l'allora console a Curitiba, Mario Trampetti, già deceduto, che vediamo in questa fotografia. E a tal proposito abbiamo proprio ricordato ieri la giornata del sacrificio degli italiani all'estero con una commemorazione davanti alla sede dell'Associazione Bellunesi nel mondo. Ovviamente non può mancare la cucina italiana, in questo caso approfondimento ai cannelloni, a firma di Sandro Incurvati e con questa notizia termina l'edizione di oggi di Edicola Bellun dedicata al mensile insieme che, come vedete, ritorno con la foto di copertina, l'omaggio è dedicato a Ennio Morricone, a Ennio Morricone, al grande Ennio Morricone. È davvero tutto per questa edizione di Edicola Bellun. Io vi ricordo che domani ritorneremo puntuali, come sempre, alle 8 e mezza del mattino in diretta e alle 20 in replica via streaming. A tutti voi una buona domenica in compagnia di Radio ABM e la web radio dell'Associazione Bellunesi nel mondo.